mia madre è laureata ma ama le fiction il pizzaiolo invece è analfabeta ma ama Kubrick ve lo dice Jack Barton tutti i film sono fiction ma d'altronde cos'è che non è fiction in questo mondo anche lei donna nonostante non guardi le fiction è come se finge con suo marito finge come quella è pura fiction e sì il grande cinema ha spesso poco a che vedere con una laurea specialistico io sono dottore dottor ma che che conosco un sacco di esimi medici esimi dopo tanti esami per carità bravissimi e puntuali nel loro lavoro di una impeccabilità da lasciare senza parole prodigi prodigli prodigli e sempre indaffarati pensate ai chirurghi con le loro mani sopraffine delicatissime che riuscirebbero a estrarti un ago nello stomaco senza neanche forse bisogno di anestesia talmente sono placidi e già anestetizzanti non anestetizzati non si sono ancora anestetizzati di finissima morbidezza palmare di dita medie che a differenza dei tavarri che le porgono in segno di strafottenza entrano nelle cavità meandriche del nostro corpo e non ce ne accorgiamo nemmeno insomma non sempre insomma non sempre c'è gente lo sapete meglio di me che si è risvegliato il mattino dopo con le forbici e il bisturi nel pancreas come ha fatto questa gente appunto ad accorgersene perché quando è andata a cagare ha espulso dall'ano del titanio sabbiato ben affusolato nella stronzata modellata e digerita se cazzo anch'io non ho digerito iron man ma non ho mai evacuato dell'acciaio inox ecco chirurghi così sbadati prima di operare devono aver visto un film merdoso con Ezio Greggio si potranno avere tutte le lauree le lauree le lauree tutte le lodi che che vogliono anche se sono un bollorde diciamo ma amano farsi durisata appunto pecorecce alla buona e poi succedono questi disgrazi l'ho sempre detto la cultura settoriale non rende l'uomo né più intelligente neppure più di buon gusto né di maggior tatto conosco tanti psichiatri che non capisco il cinema di Berman e mi immagino come avrebbero lobotomizzato il povero Ingmar da non confondere con Ingrid o Ingrid come quella spronava la vita se avessero visto il settimo Sicil se davanti alla scena della sfide culo a morte avrebbero pensato oh questo Ingmar è uno schizofrenico con pensieri suicidari si può dire suicidari attenzione si può dire suicidari ma non suicidiari non confondiamolo con sussidiari dai è una persona negativa troppo ombrosa cupa e maliconica no 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 va curato nel plagiarlo al finto benessere di massa facciamogli vedere un film di culi e tette così amerà amerà la vita si è malato questo Ingmar va educato all'edonismo porcellesco au ora si apposta apposta film dei porno se la godi più e fa godere tanti onanisti Woody Allen esempio non ha mai avuto una grande opinione degli psichiatri aveva ragione ma gli servivano come materiale di ispirazione per i suoi film allora ogni tanto quasi sempre in vero ci va ecco allora che gli psichiatri nell'ottica creativa alleniana assursero assurgono ancora assursero assursero davvero a curatori a curatori del cinema perché se non avessimo avuto Haller ci saremmo persi tanti capolavori soprattutto la magnifica scena di Manhattan in cui pensa di suicidarsi ma poi sul divano fa l'elenco delle cose per cui vale la pena di vivere eh sì bisogna essere un po sul divano un po vani vanitosi e fra queste c'era Marlon Brando e Marlon Brando è sempre lui ah dai Luciano Ligabuo Lugabuo ma davvero tu pensavi di essere Marlon Brando ecco Marlon Brando che non mi ha mai dato l'idea di essere uno che conosceva la differenza fra l'amicosi e la mitosi tu la conosci diciamocela dimmi io soprattutto inverno la mucosi tante volte soffi il naso ci sono anche le donne che soffino sull'uccello se ce ne sono se glielo dico io che ci sono ci sono si il pizzaiolo della bandera rosa vicino a casa mia proprio dietro all'angolo mentre ficcava le olive le olive ficcava le olive nell'impasto in maniera capricciosa ha urlato evviva range meccanica a clockwork courage e poi ha messo sopra la pummarola un gop la pummarola si sulla pizza ci vuole la pummarola la pummarola anche dei limoni così per rendere più sfiziosa la cena deliziosa della signora che aveva ordinato la pizza alla macedonia esiste la pizza alla macedonia si i macedoni ne vanno matti l'altra sera ho incontrato un macedone che dopo la diaspora è venuto a vivere sapete che significa diaspora? è venuto a vivere nel palazzo accanto al mio se ne fotte oramai del suo paese poi ho incontrato uno che mi ha riferito di una sua tresca ciao sei una bella donna ci stai? ci stai di che? guarda bello sono sposato e ho tre figli grazie per il bello quindi se mi hai detto che sono bello sarà tutto più piacevole? piacevole di che? ti ho detto bello mio che sono sposato e ho tre figli bello mio è ancora meglio ed è ancora meglio che tu sia sposato e abbia tre figli nessuna complicazione affettiva no poi mi innamoro lo stesso ma io no ok abbiamo mezz'ora poi devo tornare dal mio marito anche io cioè? tuo marito è il mio amante? ah si? e come mai sei il suo amante? non solo il suo fra poco sarò anche il tuo e con mio marito poi come la metterai? nessun problema è lui che me lo mette ah capisco questo per dirvi che non esistono regole al mondo un mondo sostanzialmente di merda ve lo dice il grande Jack Barton